funziona fantastico ciao buonasera persone come potete vedere sono super in ansia ma andrò alla grande ok allora che cosa io vi volevo dire io volevo innanzitutto salutarvi sono un sacco contenta come penso anche loro che voi siate qua e questo qua questo evento qui questa sorta di reading in realtà è un'organizzazione che va avanti da un po' perché la Rizzoli tramite la queer family ha semplicemente chiesto a purple square hey ci organizzate il reading sì ovvio e quindi siamo qua ci saranno delle letture la cosa che vi chiede innanzitutto è di sentirvi super tranquilli questo qua vuole essere una sorta di salotto come se fossimo tutti quanti a un bar a chiacchierare un po' come quello che è successo il 12 agosto grazie noi sappiamo il mio problema con le date quello che è successo il 12 agosto quindi chiunque di voi voglia intervenire voglia dire qualcosa è super il benvenuto basta semplicemente alzare la mano quindi non vi preoccupate e due cose sull'accessibilità vi chiediamo il più possibile ovviamente anche in correlazione col tema che andremo a trattare di essere di avere il linguaggio più inclusivo o aperto possibile come vi viene meglio e se avete bisogno di decomprimere ci sono le salette gli operatori del circolo vi guideranno poi un'ultima cosa al massimo esatto stavo per dirlo grazie lei è la direzione è il mio capo per questioni diciamo per essere il più inclusivi anche nei confronti delle persone che possono avere una deuro divergenza o una disabilità totale o parziale uditiva vi chiediamo di non battere le mani non farlo più e di utilizzare il gesto lis che è questo qua grazie esatto in modo che appunto non ci non si rischia di avere insomma particolari fastidi ora so che su questo palco vi aspettavate più persone e purtroppo semplicemente ci sono stati degli imprevisti shandy ovvero simonetta shandy vasci è una giornalista e come a volte capita se qualcuno di voi è già affine a lavori come il giornalismo la scrittura eccetera eccetera sa che quando arriva un lavoro all'ultimo è da fare mentre invece francesca buba semplicemente si è ammalata come capita in questo periodo qua per fortuna abbiamo giulia cerano che io fortemente c'è giulia cerano che io fortemente voluto ne sono un sacco contenta lei in realtà parla di libri cibo viaggi quindi tre cose di cui io sono fortemente appassionata presa bene in realtà è una persona adorabile super umile che parla tantissimo di tematiche sociali su più aspetti oltre che di femminismo è una cosa che a me piace moltissimo infatti l'ho detto prima tu in purple square saresti perfetta l'ultima cosa che ha docchiato di fatti che ho seguito con molto interesse ad esempio è quando ho parlato apertamente tra l'altro che non è una cosa da sottovalutare fa politica esattamente come piaceva a mickey murgia sul fatto che la cavalierizza smetterà di essere un polo culturale diventerà un bellissimo hotel da 150 stanze tipo fantastico esatto e oltretutto lei si è affidata a quelle che ancora purtroppo vengono definite delle vie alternative di maternità ovvero alla ovulazione e quindi è qua anche per questo per questo motivo lasciate lasciate il solo per dire che le domande bella molto tesa lasciate il microfono e poi ci sarà spazio amico che vi introdurrà meglio che cos'è purple square dimenticato qualcosa? tutto a posto top grazie allora beh io sono appunto quella la sopravvissuta e forse posso dire questo per presentarmi è sempre molto strano autopresentarsi e quindi in realtà hai detto hai detto bene anzi grazie una bellissima presentazione e io diciamo da curriculum sono un'antropologa e scrivo nella vita e mi occupo di scrivere appunto di libri di viaggi e di tutte le cose che giustamente ha introdotto e poi di in qualche modo dare voce a progetti a impatto sociale ambientale positivo di questo un po quello che faccio quando non scrivo per me scrivo per per gli altri per altri progetti lo faccio appunto cercando di dare voce a progetti in cui credo e questo è un po il mio gesto politico a livello di lavoro io per tanti anni ho lavorato come dipendente poi mi sono licenziato aperto la partita iva con l'idea di sapere di fare un lavoro che non cambia il mondo almeno credevo poi ho scoperto murgia e altri altri scrittori e scrittici e ho cambiato idea però in qualche modo pensavo di fare un lavoro ecco che non salva vite si si dice e poi ho capito che in qualche modo invece può spostare il mondo se si dà voce a qualcosa in cui si crede quindi ecco faccio questo e nel frattempo appunto sui miei social un po racconto delle cose che faccio io vivo tra Torino e Parigi poi faccio altri viaggi li racconto e intanto ho scelto questo percorso che sto tuttora intraprendendo di congelare gli ovuli si direbbe insomma per così tra amici e amiche e che è un percorso strano impegnativo da spiegare soprattutto anche da fare devo dire che tra le due nonostante il fare abbia un'anestesia e tutta una serie di cose abbastanza impegnative spiegarlo lo è forse un po di più specialmente in Italia ho scoperto che è una cosa strana di cui non si conosce bene neanche il nome e io stessa io 31 anni e ho scoperto l'esistenza di questa cosa pochissimi anni fa e ho scoperto nel frattempo nello scoprire cosa fosse ho scoperto anche che negli Stati Uniti viene regalato al diploma è una cosa molto facile ed è un regalo banale anche e mentre appunto a me mai nessuno aveva detto nulla di questa cosa qua e ho scoperto insieme anche che in Francia che appunto è l'altro posto in cui vivo è gratuito e quindi per tutte le donne che vogliano intraprendere questo percorso è gratuito mentre in Italia lo è per le persone malate di tumori o comunque di malattie molto gravi molto importanti quindi insomma ho scelto questo percorso poi magari ve lo racconto meglio ma ecco non vi starei ad ammorbare qua però è per dire che ecco sono qui un po' perché sono sopravvissuta all'influenza un po' perché ho scelto di fare questo percorso e per una serie di altre cosine grazie grande piacere a tutti io sono Micol e non sono bionda ma nonostante ciò presenterò Parco Square Parco Square nasce all'indomani della morte di Michela Murgia esistevamo da sempre ma quel giorno ci siamo cercate e ritrovate con il desiderio di tener viva la sua voce il nostro incontro è avvenuto su un gruppo Telegram che si è progressivamente strutturato in gruppi territoriali e tematici Parpol rimanda al viola da sempre il colore delle lotte femministe Square perché questo gruppo è costituito da una rete di piazze di confronto che sono virtuali e fisiche vogliamo preservare l'eredità culturale e politica di Michela Murgia e portare avanti le sue lotte affinché la realtà che conosciamo oggi non sia più considerata l'unica possibile ci accomune il femminismo intersezionale, base teorica e pratica del nostro pensare e del nostro agire per noi tutto è politica cosa facciamo in Parco Square? promuoviamo cultura, lettura, educazione, istruzione e formazione raccogliamo i contributi di e su Michela Murgia e non solo in un prezioso archivio collaborativo ci impegniamo nell'utilizzo di un linguaggio ampio e plurale con attenzione alle soggettività non binarie portatrici di disabilità o neurodivergenti progettiamo iniziative culturali e politiche sul territorio ci impegniamo per trasformare noi stessi e il mondo siamo una comunità virtuale e fisica e un movimento nel ricordo di Michela Murgia leggiamo e ci organizziamo perché stare zitte non è più un'opzione grazie ora leggo il primo brano io scusate non lo stavo dicendo giustamente prometto di esserti fedele sempre da ragazzina quando compravamo cioè rispondevamo ai test con domande come sei un tipo fedele? io non sapevo mai cosa dire capivo che dire no avrebbe fatto di me una brutta persona ma a dire sì proprio non riuscivo se significa consacrare la propria libertà alle insicurezze di qualcun altro allora no, non sono fedele se significa stare con qualcuno che mi considera un bene proprietario di cui si può rivendicare l'esclusiva non sono fedele se significa che qualcuno può pretendere di avere controllo sui miei comportamenti sui miei pensieri, sul mio corpo o sulle mie scelte non sono fedele la struttura dei rapporti queer rigetta la fedeltà e richiede l'affidabilità con chi vai a letto o di chi ti innamori sono dati ininfluenti la romanticizzazione e la sessualizzazione dei rapporti sono le armi con cui il binarismo patriarcale controlla la vita delle persone specie quelle che chiama donne quando il gioco della vita si fa duro vince soltanto chi resta e fa quello che serve chi mi vuol bene sa che ci sono e ci sarò ma la mia responsabilità è direttamente proporzionale alla libertà con cui posso agirla si può voler davvero appartenere a un altro in modo esclusivo sotto minaccia di legge o dello stigma sociale dell'infedele? la violazione della fedeltà è l'alibi delle violenze domestiche e dei femminicidi è in nome della fedeltà che si può dare a una donna della puttana giudicarne il comportamento e persino ottenere delle attenuanti in tribunale se la si ammazza se devono imporci di promettere la fedeltà è perché non ci appartiene tutti vogliamo essere liberi perché solo dentro alla più completa libertà è possibile esercitare la più stabile delle responsabilità ho voluto leggere questo brano per augurare a tutte le persone presenti me compresa di perseguire ogni giorno la propria libertà mi auguro che Purple Square sia sempre più un veicolo che ci porta a riconoscere e ad ampliare le nostre possibilità di libertà in modo da poter esercitare una responsabilità stabile sia all'interno del gruppo che nella vita in generale se oggi siamo qui è anche perché ci siamo prese delle responsabilità più o meno grandi ma sicuramente ben salde e non dobbiamo dimenticare di ringraziarci per questo e ora buon reading a tutti buona coppa tre maghi diamo inizio al reading la prima lettura è di Laura e viene dal capitolo che si chiama lo stato interessante vai Laura buonasera sono Laura e ho avuto la fortuna di incontrare Mikol e Francesca per via trasversale direi quindi molto adeguata al contesto maternità e gravidanza famiglia e sangue stato interessante attraverso questo eufemismo sin dall'ottocento ci si riferisce con inspiegabile pudore all'esperienza della gravidanza è un termine curioso da un lato sottintende che tutti gli stati di vita della donna che non implicano l'essere incinta siano privi di interesse dall'altro suggerisce che a quello specifico stato tutti e in particolare lo stato dovrebbero prestare un'attenzione particolare ed è anche un'espressione ipocrita perché nella realtà non c'è niente che riceva dalla gente e dalle istituzioni meno interesse del destino di una persona incinta o di una madre il cui status non sempre coincide col più interessante degli stati in assenza di vere politiche di welfare la gravidanza rischia di essere un'esperienza angosciante che minaccia la stabilità economica ed emotiva delle donne che non possono contare su altri sostegni è significativo che a parlare del deficit di servizi alla genitorialità nel dibattito pubblico siano sempre le donne politiche giornaliste scrittrici attiviste e che partano sempre dalla loro esperienza per farsi capire magari proprio quando si trovano nello stato di cui sopra o quando devono spiegare una maternità che non passa da quello stato dimostra il limite rappresentato da leggi pensate da uomini che dal loro punto di vista hanno considerato la vita delle cittadine funzionale allo stato mentre dovrebbe essere il contrario l'assenza di politiche a sostegno della genitorialità rivela uno scenario dove le donne non sono persone ma pezzi del welfare l'attuale stato sociale in Italia è ancora pensato per confinare le donne di preferenza a casa a occuparsi della cura di anzianne e bambine sul disincentivare il lavoro fuori casa va riconosciuto che il sistema è stato efficientissimo l'Italia ha i tassi di occupazione femminile più bassi in Europa dopo la Grecia e le statistiche dicono che 25.000 donne all'anno lasciano il lavoro dopo il primo parto per contro una donna su quattro sceglie di non mettere al mondo né crescere nessuno piuttosto che perdere le opportunità conquistate con lo studio e il lavoro i cosiddetti bonus bebè proposti periodicamente da partiti di ogni posizionamento danno un messaggio disarmante questa paghetta serve a te genitore per arrangiarti giusto un anno nel trovare privatamente i servizi che lo Stato dovrebbe offrirti e non ti offre il bonus bebè fa esattamente quello che non dovrebbe fare pone al centro del discorso pubblico il neonato invece che la condizione sociale strutturalmente fragile della madre per far crescere un bambino ci vuole un villaggio dice un antico detto africano ma la politica continua a ripetere l'esatto contrario per far crescere un villaggio ci vogliono ci vogliono bambini e siccome non ne fate la colpa della decrescita è vostra le campagne paternaliste come l'indimenticato fertility day che scaricano sulle donne la responsabilità delle culle vuote non solo non servono a nulla ma sono offensive e umilianti le donne italiane ricominceranno a dare la vita quando per farla venire al mondo e crescerla non sarà più necessario amputare la propria grazie come il direttore supremo mi ha consentito che potessi fare dopo questo passaggio proprio l'ultima frase a me ha facilitato una riflessione ve la rileggo le donne italiane ricominceranno a dare la vita quando per farla venire al mondo e crescerla non sarà più necessario amputare la propria ora sulla scorta di questo e anche sulle riflessioni di Umberto Galimberti magari ne avete sentite e riflessioni personali io credo che dare la vita e crescerla abbia a che fare necessariamente con amputare una parte della vita della donna o dell'essere che c'era prima di diventare madre è un dato di fatto ore di sonno alimentazione igiene personale e poi il lavoro e poi una socialità quindi è un dato che c'è quindi mi piacerebbe auspicherei che se ne parlasse come un dato di fatto e quindi se andasse alla ricerca di soluzioni o qualcosa per averci a che fare non far finta che non sia così e che siano tutte rose e fiori no urlare si possa non dà fastidio se vuoi urlare urla fra dai scusate adoro la mia fan base la nostra è la stessa ops sorry not sorry no no allora parla tu maledetta no volevo ricollegarmi al discorso stavo ripensando ad alcuni estratti che stavo leggendo di libere scritte da dondi aspetta leggo il titolo per intero libere di scegliere se come avere figli e stavo ripensando semplicemente una frase in cui spiegava giustamente in realtà una cosa molto cristallina soprattutto per donne inteso che biologicamente possono avere figli quindi che in genere veniamo trattate come minoranza come ben sappiamo ma solo ed esclusivamente quando abbiamo dei figli quindi quando siamo in una fase di maternità diveniamo un oggetto speciale trattato come se fossimo un mobilio esotico ma che in realtà adoro le risatine grazie sì effettivamente così ma è solo più una concezione non so come dire una via di mezzo tra l'ideologismo e l'estetismo patriarcale del fatto che c'è la donna che è incinta quindi deve essere assolutamente protetta donne intoccabili ma poi alla fine non abbiamo parità non abbiamo leggi che ci tutelano non abbiamo un welfare che ci tutela non viviamo neanche in un sistema che effettivamente ci dà anche solo degli aiuti concreti infatti ci vuole un villaggio per crescere un figlio it takes a village to grow a child esatto è bella perché ti dà proprio da un certo punto di vista il senso di famiglia che vorresti avere quindi quella di sangue quella nonna quella degli amici delle persone che ti scegli che ti possono aiutare ma ti fa anche rendere conto di quanto tu effettivamente come donna in maternità sia assolutamente da sola se non hai questo tipo di supporto ora sei contenta direzione suprema molto grazie e se qualcuno vuole aggiungere qualcosa volentierissimo soprattutto perché io e Poffi non siamo madri quindi fino a un certo punto no esatto assolutamente la nostra opinione vale nei limiti esatto non siete timidi timide io vi vedo mi stai inquietando in genere sono io che faccio queste scene attenzione a forza di stare con me due mesi vivere così no capisco che comunque il tema è pesante quindi delicato esatto non dovrebbe più esserlo pesante non dovrebbe normalizzare tutti questi discorsi non dovrebbero essere neanche discorsi cioè dovrebbe essere una cosa normale di cui si parla come che hai mangiato ieri a cena secondo me e spero che lo ricordassi lo spero molto che vabbè tu non ti chiederei neanche quello però in generale volevo dire che sarebbe meglio proprio la parola normalizzare questi discorsi in generale l'ho pensato durante tutta la lettura di questo libro sinceramente e non solo di questo però continuiamo con le letture allora ora dai ora ci si trova il medium non è il messaggio e ce lo legge Jenny super purple Jenny ti amo come si usa sto coso cominciamo bene ok grazie ok niente non sta però molto bene un applauso non applauso di incoraggiamento eh sì a entrambi direi sì certo ovvio no ma poi dato che la lettura è stata scelta proprio a caso a caso proprio a caso allora allora è fin troppo ovvio dire che non basti restare incinte per parlare di maternità ma forse non è altrettanto ovvio ricordare che questa affermazione è una conquista civile piuttosto recente per secoli siamo state fatte infatti madri per forza impossibilitate a sottrarci al percorso del sangue e alle funzioni collegate se non a prezzo di una fortissima condanna sociale sono state le lotte del femminismo del secolo scorso a costringere la società a ripensare la maternità fino a definire madre solo quella che accetta di esserlo trasformando in scelta individuale ciò che era un destino collettivo reintroducendo nel dibattito la mistica deterministica del sangue del sangue non si mette quindi in discussione solo l'ipotesi della surrogazione gestazionale ma anche alcuni comportamenti che sono già normati come diritti nel nostro sistema giuridico cioè l'aborto e la possibilità di rinunciare alla potestà genitoriale per tacere dell'adozione legame di pura volontà che in questo modo non originandosi dall'avventura umana straordinaria della gravidanza uterina tornerebbe nell'alveo delle maternità di serie B volevo aggiungere che la scorsa settimana ho partecipato alla presentazione di un libro che si intitola Sangue del mio sangue l'autrice ha messo in evidenza due diritti mancati in particolare uno riguarda i genitori adottivi per i quali non è previsto quello di cui si parlava prima il bonus il bonus pebe che adesso si chiama segno di maternità il secondo riguarda invece le persone adottate per le quali non è previsto in caso in cui vogliano fare il percorso di scoperta delle proprie origini un accompagnamento psicologico gratuito e io ne so qualcosa perché appunto me lo sono dovuto pagare per quanto mio quindi ci tenevo ovviamente Mikol conoscendomi mi ha assegnato questa lettura ma l'avrei scelta comunque quindi grande gente io segretaria lei è sempre la direzione a due anni di nuovo parlare io no innanzitutto veramente un applauso di nuovo silenzioso a Jenny perché in realtà conosciamo Jenny d'agosto ed ha fatto veramente dei passoni allucinanti nell'aprirsi questo non è soprattutto un tema facile per lei e sicuramente per molte altre persone che possono essere in sala penso sia abbastanza dato per scontato il fatto che non so come porla la mancanza è una cosa che Murgia riprende moltissimo soprattutto alla fine del libro secondo me ma poi in realtà è un dialogo che va avanti da molti anni il fatto che in realtà non ci siano delle leggi non ci sia una totela non è ovviamente solo ed esclusivamente per quel tipo di maternità che porta avanti una maternità normalizzata ma anche per tutte quelle donne che scelgono semplicemente di adottare un figlio e i supporti sono veramente pochissimi o che scelgono semplicemente delle maternità che sono alternative sicuramente un discorso che verrà ripreso in avanti con le prossime letture ma forse la mancanza di focus di cura soprattutto e in primis anche nei confronti dei bambini non vengono mai trattati come se fossero esseri umani ma più forse come una mercificazione non solo all'interno di maternità che non vengono ritenute diciamo normali canoniche ma anche in famiglie normali quando si tende a fare un figlio senza farsi tutte le domande del caso sulle possibilità economiche che molte madri comunque si fanno ma rimane sempre forse un discorso un po' di sottofondo un po' di sottotono che dici tu Giulia? Io volevo aggiungere due temi in realtà uno più legato al mio percorso e uno più in generale sul leggere Murgia quello legato al mio percorso è che mi è venuto in mente adesso io ho iniziato questo percorso lo chiamo congelamento degli ovuli non è crioconservazione degli ovociti però insomma ci mettiamo due ore e ci capiamo l'ho iniziato da sola e poi quindi sono andata alla prima visita dal mio medico con la mia migliore amica e quindi il mio medico ha pensato che fossimo una coppia in realtà lei ha fatto il suo percorso di congelamento per gli affari suoi in Francia maledetta gratis va bene e poi a un certo punto forse alla terza visita ho portato il mio compagno e lui era scioccato perché mi ha detto ma com'è hai 30 anni hai un compagno stati insieme da anni perché sei qua e io non gli ho snocciolato la lunga lista che motiva la scelta per cui effettivamente io e noi oggi non ci sentiamo di avere un figlio però lui mi ha detto guarda che se il congelamento lo fa anche lui è pressoché gratuito il percorso cioè se il congelamento è di coppia e quindi tu in qualche modo ti impegni in un progetto di famiglia eteronormata è quasi gratuito non è gratuito ci sono una serie di medicinali e ormoni che vanno pagati ma sono nell'ordine delle poche centinaia di euro se invece il percorso è fatto da sola come era iniziato e quindi è la cosa che io avevo previsto di fare il costo è tra i 2 e i 3 mila euro quindi è parecchia la differenza e quindi questa cosa ci ha fatto pensare e tardare anche un sacco nella decisione il percorso eventualmente può essere fatto appunto ciascuno congelei propri separatamente oppure già insieme quindi già proprio è un progetto per cui tu firmi che a un certo punto se starei con lui farei difficoli e se ti lasci fine andata finita così e quindi ecco questa cosa io sono andata a casa dicendo cavolo e se io fossi stata invece con la mia migliore amica della prima visita chi se ne frega o qualsiasi altra roba o semplicemente se io voglio dirmi mi do del tempo e un'altra cosa che mi ha fatto pensare un po' di tempo fa una ragazza che seguo sui social che tra l'altro di Torino anche lei ha raccontato sui social di aver fatto il mio stesso percorso e parlavamo e dicevamo appunto le raccontavo questa cosa della Francia che mette a disposizione gratuitamente per le donne che vogliono farlo questa possibilità e lei l'ha raccontato e tantissima gente le ha detto ma perché noi contribuenti dovremmo pagare con le nostre tasse un tuo percorso tu donna che non ti sei presa cura della tua fertilità in qualche modo tu donna che ai 30 anni potevi figliare prima perché noi dobbiamo pagarti il tuo percorso ora io non vi do una risposta vi do degli spunti assolutamente poi ragionateci ed è un ragionamento aperto anche per me quindi non ho risposte però una cosa a cui ho pensato è io capisco credo da dove nasca quel pensiero lì cioè di dire perché io devo pagare una cosa di cui a me non frega niente tua a me non interessa tu puoi figliare sei fertile figlia adesso cioè perché devi congelare i tuoi ovociti però una cosa che mi ha fatto riflettere va bene facciamo finta che questo sia un ragionamento valido ok è sicuramente valido nella testa della persona che ha fatto questo commento quello che penso è allora per esempio una persona ubriaca si schianta con la macchina e finisce in ospedale non gliele paghiamo le cure perché non si è preso cura di sé una persona con una tossicodipendenza per esempio arriva in ospedale sta molto male ha bisogno di cure cosa facciamo lo lasciamo lì sono tutte domande aperte che però io vorrei fare a queste persone poi possiamo insieme decidere che una cosa è valida e l'altra no però poi va motivata cioè però poi a un certo punto dobbiamo dirci queste sono le categorie secondo cui immaginiamo il mondo e può valere tutto è davvero non è aperto il discorso però mi aveva fatto pensare sin da quella visita dal medico in cui ho capito che se avessi fatto questo percorso con il mio compagno ufficiale allora potevano quasi regalarmelo altrimenti no me lo pago caro e poi appunto tutti questi pezzettini che si sono incasellati e che vi lascio lì insomma da portare a casa e un altro tema invece che non c'entra con me ma c'entra con Murgia ma è legato a tutte queste cose qua che a me aiuta molto leggere Murgia non perché io sposi tutto quello che dice spesso sono in disaccordo come è giusto normale che sia e come mi accade con le persone che amo però una cosa che fa ed è una cosa che fa con me anche l'antropologia ed è quello in cui mi sono laureata è darmi punti di vista diversi ed è per questo che assolutamente io non sono niente in confronto a Murgia ma mi piace questa cosa di dire vi lascio dei temi e pensateci e questa cosa qui è quello che fa con me Murgia cioè io ho letto questo libro non ho condiviso molte cose ne ho condivise tantissime altre però l'ho chiuso e ho detto ci penso ci rifletto quindi ecco grazie anche per queste letture perché mi riaccendono temi fine mi taccio capito perché la lovo prossima lettura Francesca ci legge un brano da Alquir non si comanda io sono più bassa ma ve lo faccio andare bene lo stesso ma no 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 grazie Mattia facciamo un applauso per Mattia vi prego sto povero uomo si se vuoi li tolgo subito non lo vuoi appoggiali sul tavolo così mi stralgo oddio sto facendo casino li tolgo dopo bravo li tolgo dopo all'inizio ero troppo giovane anche per risolvere tante cose pratiche che complicavano la vita dei miei figli per esaudire come intendevo fare i loro desideri più promettenti più che giovane dovrei dire che ero troppo povera man mano che iniziai a percepire un reddito tale da poter mantenere anche qualcun altro cominciai a pagare delle cose per loro assecondando bisogni e talenti anche questo fu complicato per i genitori biologici perché istintivamente si sentivano prevaricati ci vuole del tempo per capire sia io sia loro che quel senso di prevaricazione nasceva dalla minaccia a un potere iscritto nella struttura della famiglia nucleare quella cosiddetta tradizionale il potere di controllare le figlie e i figli col proprio denaro coltivando anche inconsciamente il loro senso di dipendenza alla prolesi intima se non fai come dico io ti taglio i viveri che un adulta fuori da questo meccanismo normativo possa offrire un'alternativa in termini materiali una via d'uscita può risultare scandaloso anche a chi si crede progressista eccoci a tirar fuori dall'armadio la questione dei soldi che come ho annunciato sarà centrale fra qualche pagina i soldi hanno un ruolo nella dinamica della maternità d'anima perché la famiglia queer è anche una realtà materiale in cui ci si può dire se vuoi davvero fare quella scelta di studi e non hai le risorse per sostenerla copro io le spese oppure se non puoi dire ai tuoi che questo è un momento difficile ti sostengo io ancora questo aereo per trascorrere del tempo con un amore di cui non parli a nessun altro lo pago io questa scelta di vita che per ora è un segreto non deve esserti preclusa dalla mancanza di risorse ci penso io ho sempre voluto insegnare ai miei figli che è un ci penso io nel mio vocabolario dell'affetto vale più di cento ti amo e che in una famiglia interamente fondata sulla scelta reciproca si può osare essere se stessi completamente e si può contare su un aiuto concreto senza giudizio prendendosi poi la responsabilità di darlo quando si ha il potere di farlo non c'è niente di più affermante per me nel mio rapporto con i miei figli che aver avuto la possibilità non solo di insegnare loro qualcosa e di guidarli e passo dopo passo imparare da loro seguire io la loro guida ma anche di contribuire agli studi pagare spese mediche di cui non volevano discutere con altre fornire strumenti di lavoro dare accesso a risorse diverse da quelle disponibili fuori dalla nostra famiglia lo so è un discorso da mamma tigre da telefilm coreano ma chi non vuole il meglio per le persone che cresce e con cui cresce chi non desidera che a quelle persone non manchi mai niente per quale altro motivo vale la pena affaticarsi a costruire delle risorse delle solidità ho sempre vissuto la mia maternità e tutte le altre relazioni familiari queer della mia vita come strumenti di liberazione e di indipendenza a chi amo a chi scelgo voglio offrire una sola rassicurazione quella di non dover mai fingere di non essere chi è io ho delle riflessioni da fare su questa parte che ho letto e ve le leggo perché non riuscivo a esternarle così senza leggerle quando ho letto questo capitolo e in particolare tutta la tematica legata ai soldi mi sono sentita scomoda su quella sedia mentre leggevo e mi sono arrivate dritte in faccia tantissime emozioni contrastanti lo ammetto il primo pensiero è andato alla me nell'età in cui capisci di essere parte di una famiglia semplice una famiglia patriarcale di emigrati del sud che non poteva pagarmi tutte le attività che avrei ricevuto e che avrei voluto ricevere ma questo non mi ha impedito di fare quello che desideravo ho trovato altre vie mi sono sentita grata per quello che i miei genitori mi hanno potuto dare e se avesse avuto una mamma di anima che mi avesse pagato l'università che volevo fare a cui ho rinunciato ora sarei dove sono? Farei felicemente il lavoro che mi sono scelta? Con quei soldi avrei sperimentato quella gioia assoluta dell'essermi presa comunque la mia strada? mi sono sentita quasi di proteggere idealmente non abbraccio la mia famiglia e dir loro è andata bene così poi ho pensato alla mamma di cuore alla mamma me di cuore adottiva da poco meno di un anno e la parola famiglia in fase di evoluzione giornaliera se arrivassero dei soldi da parte del mio miglior amico ovvero il fratello che mi sono scelta come mi sentirei? Sicuramente a mio agio perché è una scelta condivisa ma se fosse una persona che non conosco ad offrire una possibilità economica che io e mio marito magari in quel momento non possiamo mi sentirei a mio agio? Forse no lo ammetto mi sono sentita ancora più scomoda su quella sedia dove stavo seduta a leggere il libro di Michela Murgia Michela Murgia hai proprio ottenuto quello che ci hai chiesto ragionare dibattere parti torto persa nei mie pensieri ed esperienze che sono molte di più di quelle che vi sto raccontando ma se no qua più perdiamo tempo non ve le racconto tutte ho fatto un esercizio che faccio spesso togliere il filtro della mia personale esperienza come verità assoluta le mie esperienze e le mie visioni dei fatti non sono universali non possono esserlo ovviamente ma tendiamo sempre a dimenticarcene o almeno io lo faccio ma dato che voglio avvicinarmi a un'opinione diversa dalla mia per aprire la mente metto da parte la me diciannovenne metto da parte la me mamma di cuore e leggo senza i miei filtri cosa scrive Michela Murgia è un allenamento faticoso ma posso provare a comprendere un altro punto di vista e quante domande vorrei fare a murgi tra l'altro alla fine del capitolo Michela Murgia si definisce mamma tigre quello stesso sentimento di difesa che lei definisce prevaricazione parlando di famiglia tradizionale lo sente anche lei in un'altra veste allora sorrido non so se ho capito o meno ho mille dubbi mille domande sono mesi che ci penso e ve lo sto raccontando così senza un finale ispirazionale ma con il solo piacere di dibattere stare in mezzo a voi e pensare stiamo tante siamo unite siamo a tempesta ora posso togliere i fogli grazie veramente grazie capisco quali sono lascia nessun prezzo trasforma il dono in merce sono tutti sparpagliati ti aiuto direttrice eccomi qua 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 Mikol è adorabile perché dove non riesci ad arrivare tu faccio io e ti salva aggiungo una cosa così parlo da sola però poi parlate anche voi cioè se no veramente è stato un attimo io si stemmo o che è che sono arrivata l'unica però manca a far così però devo dire mi ha sollevata molto sentire che questo pezzo è un po' insomma mi ha lasciati lasciate così perplessi perplesse perché anche a me e per me è stato io mi sono immedesimata molto nel potenziale figlio figlia d'anima quindi mi sono pensata adolescente io vado in psicoterapia da tantissimi anni due volte a settimana quindi insomma ci credo e ovviamente il tema della famiglia dei genitori insomma torna più o meno in tutte sedute direi quasi due volte a settimana e e ho pensato leggendo Murgia in realtà poi ascoltandola insomma non è la prima volta che mi capita e la cosa che a me continua adesso domani ho la terapista quindi poi gliene parlo non l'ho vista ancora la settimana era in ferie quindi non ho avuto modo comunque una cosa a cui io penso molto è già è conflittuale allora è normale che quando sei adolescente ci saranno dei no io ce li ho avuti quasi tutti da mia madre mio padre non ha detto né sì né no stava boh ok però da mia madre comunque un conflitto anche quello da mia madre ho avuto dei no e su cui però poi io ho lavorato cioè sono stati dei no nessuno mi ha detto ti salvo io da quel no era un no punto cioè ci ho avuto a che fare pur essendo una privilegiata figlia di una famiglia che comunque mi ha permesso sostanzialmente tutte le grandi cose che desideravo fare di cuore però su cui no ho lavorato oggi dopo anni di psicoterapia e dopo anni di testate contro queste cose qua e anche di semi risoluzioni parziali ovviamente però insomma più o meno penso forse sarei stata ancora più in difficoltà se di fronte a cui no qualcuno mi avesse detto te lo pago io il volo per andare a o ti aiuto io a coprire questa cosa di cui non vuoi parlare con i tuoi genitori io non ho parlato con i miei genitori ovviamente come tutti e tutte di tante cose ed è andato bene che non gliene abbia parlato ed è andato bene che nessuno mi abbia detto te la risolvo io me la sono risolta io con ritardo ovviamente anni dopo 15 anni dopo forse mai però ecco questa è una cosa su cui per esempio mi interrogo non ho minimamente neanche lontanamente una risposta e penso non so se sarei stata forse più in difficoltà ad aver avuto una persona che prima ancora che le capissi io mi avesse dato una soluzione esatto esatto diceva forse anche perché tu sei stata privilegiata infatti questo è un grande tema e lo condivido sì cioè io non ho avuto dei no che ritengo sbagliati oggi cioè ho avuto dei no che sono no nati dalla coscienza da tutta una serie di risorse che appunto mi avevano che hanno messo totalmente poi a mia disposizione nel momento in cui si trattava di investire sul mio futuro quindi questo sicuramente però ecco è un tema su cui rifletto vuoi il microfono no Patrizia ma vieni proprio qua davanti dai ma sì ma sediti anche qua tranquillo ma sì ma vabbè ma a me piace più una questione un po' più qua così così ci vediamo tutti una prospettiva dietro al piano che sci no vabbè mi rivolgo a lei semplicemente perché stavo parlando con lei io anche quando ho letto quella parte ho pensato la tua stessa cosa e anche io sono una persona che mi ritengo privilegiata e di conseguenza ho pensato però che peccato che altre persone non hanno potuto avere i miei privilegi e di lì che mi si è aperta il pensiero dell'opportunità che può dare una mamma una persona una persona che vuole bene ad un bambino ad un ragazzo che ha delle possibilità diverse quindi bisogna sempre mettersi nel punto di vista del ragazzo del bambino nella condizione in cui è mi sono chiesta mia mamma cosa avrebbe pensato se qualcun altro avesse sopperito a delle sue mancanze che poi non sono sempre solo economiche ci possono essere anche delle magari delle persone che hanno delle difficoltà emozionali quindi il fatto di avere la possibilità di avere anche una mamma una persona di riferimento che ti può in qualche modo aiutare sulle emozioni economicamente la trovo una risorsa enorme che forse si è persa negli anni perché io ho letto non tutto Murgia però nei suoi libri si parla di un qualcosa che c'era più nel passato e si è perso nel presente adesso io però non ho uno spaccato delle famiglie qui rattuali quello che ho pensato quando ho letto Murgia che bello che in passato fosse più d'abitudine quello di anche magari permettere ad altre persone di crescere dei bambini il brutto che probabilmente in passato nasceva molto dalla necessità proprio economica quello che sarebbe bello e che ci potesse essere la possibilità di avere dei punti di riferimento che escono della famiglia che ampliano altri tipi di possibilità anche a livello più emotivo questo niente è una mia riflessione grazie a entrambe tra l'altro grazie tra l'altro è molto bello è molto giusto e per esempio una cosa che in realtà lateralmente cita anche Murgia quando dice quando cita la tribù e insomma il bisogno di crescere bambini e bambine ci sono tantissime realtà per esempio nell'Africa subsahariana per cui è impensabile pensare di crescere un figlio o una figlia nella sola famiglia nucleare non esiste cioè è un tema di comunità e si cresce insieme per una serie di cose che sono anche pratiche perché magari appunto il genitore è fuori per tanti giorni con il bestiame per esempio la madre biologica diciamo si occupa di altre faccende quindi i figli o le figlie sarebbero soli o sole quindi è chiaro che sarebbe una comunità però è totalmente normale pensare che appunto ci sono due genitori che magari mettono al mondo un figlio o una figlia dopodiché è una questione di comunità una questione collettiva e quindi questo è molto vero molto bello io faccio vai Noemi ciao allora io volevo dire una cosa legata alla figliazione d'Anima nel senso che comunque il modello di Michela Murgia viene fuori dalla cabadora e in tempi non sospetti lei aveva già tessuto tutte le tele possibili immaginabili aveva già chiaro in mente questo progetto meraviglioso che sarebbero state le sue opere e lì c'è la componente economica che è fortissima lo diceva anche Patrizia prima ma nella cabadora non c'è solo la parte economica cioè l'amore che questa bambina riceve da questa mamma d'anima non è minimamente paragonabile al non amore invece dell'altra madre per cui era proprio un di più un peso la figlia che arriva proprio a trasformare la povertà in miseria e quindi c'è comunque sempre la Sardegna e le radici e la tradizione per una anticonformista d'eccellenza quindi lei ha costruito la sua figliazione d'anima in base a quelle che erano comunque le sue tradizioni e il suo sentire il bello lo diceva anche Francesca costruiamoci le nostre alternative no è l'invito che viene fatto in tutto il libro e secondo me ecco in questo libro è vero che è difficile essere d'accordo su tutto è vero che la sedia è tanto scomoda però ci dà proprio la possibilità di guardare oltre cioè di parlare di cose come la gestazione per altri che è un tema a me scusate spoiler anticipo però è un tema che per me proprio è stato quasi fastidioso da ascoltare perché di queste cose non si parla e io mi definisco femminista intersezionale molto fieramente però non ne parla nessuno e quindi per fortuna l'ha fatto lei e ci ha proprio detto vi dico le cose che penso ve le sbatto in faccia non ho neanche il tempo di spiegarvele bene fatene cosa volete e e arrangiatevi cioè da qua partite e sognate anche più in grande però ecco è proprio qua sta la rivoluzione no cioè cominciare a parlarne bellissimo al circolo dei lettori chiedere nelle piazze che ci vengano dati più diritti più riconoscimenti che si parli anche di cose che solitamente non vengono trattate possibilmente che lo facciano le donne dato che si parla per lo più di utero ma comunque di cose che riguardano i nostri corpi e da qua in poi pretendere che veramente non solo si parli ma si faccia la questione degli ovuli probabilmente costa tanto anche perché non ci sono state delle richieste no non ancora cioè un qualcosa che sta prendendo sta diventando mainstream adesso ecco un pochino di più e dobbiamo ancora fare quelle battaglie che noi ancora campiamo di quelle degli anni 70 e dobbiamo fare le nostre ecco grazie vai polpetta scusate la mia amica il suo soprannome è questo e io do soprannome a tutte le persone a cui voglio bene va bene Marina comunque in realtà io ho una domanda che mi è venuta e forse può essere utile condividerla così magari qualcuno magari una risposta per me vediamo sempre in tema soldi perché la lettura anche a me ha dato un po' di disagio non era proprio comoda perché anch'io vengo da una situazione molto privilegiata però la domanda che mi sono fatta è quanto il disagio che l'aiuto da uno sconosciuto mi provoca è legato dal dall'accettare l'aiuto dalla vergogna dell'accettare l'aiuto da non essere capaci di chiedere e di accettare l'aiuto che può essere anche disinteressato non è necessariamente legato all'amore ovviamente è molto più bello quando è legato all'amore ma spesso specialmente da figlio quando ricevi qualcosa dai tuoi genitori dici l'amore è incondizionato ma quante volte da figli ci sentiamo poi in debito magari dobbiamo per forza essere grati ai nostri genitori per quello che ci hanno potuto o non potuto dare quindi io non posso accettare l'aiuto di qualcun altro perché altrimenti sto dicendo ai miei genitori che non sono abbastanza grata a loro per quello che possono fare per me e quindi quanto forse questa capacità di accettare o non accettare l'aiuto è legata anche alla famiglia tradizionale se vogliamo che in quanto anche forse molto legata al capitalismo quanto è famoso il self-made man quanto è importante essere capace di fare le cose da soli senza chiedere senza accettare l'aiuto quindi è un'altra riflessione che secondo me si accompagna molto bene al discorso ovviamente domande non ho non ho altro grazie grazie abbiamo tutti solo domande prego un'altra agevolate a proposito di quello che ha detto com'è che si chiama la tua amica Marina ok mi viene in mente proprio riguardo appunto alla mia cioè quello che ho passato in questi due anni riguardo appunto alla ricerca delle mie origini e una cioè due domande che mi hanno messo in difficoltà mi sono venute in mente che una era proprio da parte tra l'altro di una persona a cui tengo molto quindi ci sono rimasta doppiamente male stata Emma tu appunto non cioè come non ti bastano i tuoi genitori non sei grata ai tuoi genitori perché vuoi andare appunto a cercare la tua famiglia d'origine come se appunto questo fosse proprio una invece una mancanza di rispetto nei confronti dei miei genitori e l'altra domanda che tra l'altro mi è stata fatta proprio in tribunale ne hai parlato con i tuoi genitori cioè sì però però potevo anche no cioè nel senso sì perché io sono una che a mia madre dice anche quante volte va in bagno però non ero obbligata voglio dire quindi questo mi fa venire proprio in mente questo infatti ci ho pensato effettivamente anche quando leggevo che c'è sempre questo tema ricorrente della gratitudine e io in quanto persona adottata l'ho sempre cioè è sempre stato molto ricorrente nella mia vita sia a livello psicologico personale sia appunto da parte degli altri quando appunto raccontavo perché appunto sempre comunque bene o male raccontato e mi veniva detto ah che bel gesto che hanno fatto senza offesa però però per me i santi sono altri e quindi insomma quando poi sono arrivata alla consapevolezza che appunto i miei genitori sono tutt'altro che santi mi sono fatta delle domande ho detto certo ci mancherebbe posso anche essere grata ma posso anche non esserlo nel senso che ci sono persone che non lo sono perché magari non volevano essere e ne conosco che io ci sono rimasta però esistono persone che preferivano stare cioè crescere in comunità e a 18 anni fare quello che volevano e invece per legge sono state adottate quindi questo ci tenevo grazie prossima lettura pagate non vuol dire vendute e leggene Elena a proposito di soldi giusto tranquillissimo ci tengo a precisare che solleggere molto meglio ma sono molto emozionata quindi nessun prezzo trasforma il dono in merce continuo a insistere sulla questione economica perché anche se molto problematica non mi sembra eludibile una gravidanza richiede tempo comporta alterazione fisica e rischi oggettivi immaginare che una gestante surrogata possa affrontare tutto questo per altruismo significa riferirsi a una ridottissima minoranza di donne probabilmente in occidente il rimanente cioè tutte le donne che lo stanno già facendo lo farà per soldi e per nessun altro scopo mi appare del resto impensabile chiedere a qualcuna di affrontare un simile impegno senza prevedere un'assicurazione un'alta remunerazione del tempo della gestazione un adeguato percorso medico un sostegno all'eventuale famiglia che si priva della sua presenza forza e salute e un accompagnamento successivo che duri fino al completo recupero psicofisico dopo il parto dove c'è una legge queste cose ci sono tutte o in gran parte dove una legge manca le donne lo fanno lo stesso e queste garanzie non le hanno il problema è la povertà di partenza certo che la povertà di partenza è ovvio che 99 su 100 non lo farebbero mai se non fossero povere ma questa affermazione può essere applicata anche alla signora rumena che ha lasciato i figli alla madre per venire qui a fare la badante a nostra nonna quale donna accetterebbe di rinunciare all'infanzia del proprio bambino per andare in un paese straniero a offrire forza fisica presenza e cura a una famiglia estranea se non venisse pagata abbastanza da migliorare la svantaggiatissima posizione di partenza in quel caso non è sempre la sua povertà che stiamo comprando o vogliamo raccontarci che migrare dall'est europeo per fare le badanti è un lavoro come un altro le ore che paghiamo queste donne non sono solo il tempo che passano a occuparsi della vecchiaia della nostra madre sono soprattutto il tempo migliore della loro vita quello che non passano con chi amano nel proprio paese a fare altro è uno sfruttamento evidente perché nessuno stipendio consentirà mai loro di ricomprarsi quello a cui stanno rinunciando nessuna tredicesima ripagherà i loro figli e le loro figlie della privazione di aver visto la madre quattro volte all'anno in tutta l'infanzia è ipocrita non voler vedere che la nostra emancipazione la libertà di andare a lavorare o di vivere la vita della nostra famiglia anziché votarsi all'assistenza di una persona anziana è conquistata a prezzo della non emancipazione di altre donne alle quali il compito di cura che la società ha sempre preteso dalle donne italiane è stato trasferito del resto quante sono le donne che ogni giorno anche qui rinunciano o rimandano la possibilità di diventare madri perché perderebbero il lavoro o sarebbero costrette a lasciarlo non è un problema di sfruttamento il fatto che ci siano aziende che per assumerle pretendano la loro sterilità datori di lavoro che gliela chiedano sin dal colloquio di assunzione è uno stato che tagli servizi e proponga forme di contratto che tutelano sempre meno le donne che scelgano di essere madri nonostante tutto intanto ringrazio Purple Square per questa esperienza direte perché hai voluto leggere se ti emozioni perché anche io ho un problema con la terapista che se faccio le cose le devo fare tutte fino in fondo dopodiché su questo ho ancora necessità di riflettere quindi non dirò niente però dirò che ringrazio Murgia perché ha detto in maniera autorevole a tutti una cosa che io penso sempre ma che trovo poco difese in questo paese e cioè che si può essere madri in tanti modi possiamo essere mamme anche se non siamo coloro che portano avanti una gravidanza ci sono tanti legami che possiamo avere e ci sono tanti modi che abbiamo di essere feconde ogni giorno grazie 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 brava grazie voglio dire qualcosa in realtà questo brano per me è stato difficilissimo e ho ringraziato tantissimo Elena per averlo letto quando io ho detto ehi ho scelto questo brano per te che te la senti per caso cioè perché tipo io non me la sentirei quindi apprezzo veramente tanto secondo me è una lettura difficile io sono rimasta su questo è una lettura difficile secondo me anche perché tocca secondo me quelle che sono le corde della trasversalità genitoriale genitoriale barra materna ad esempio tipo mi vengo a pensare perché è una situazione che ho anche vissuto quando ho fatto da chiarichivere i miei nonni che per me sono stati i miei genitori nel vero senso della parola ed è stato proprio in quel momento in cui tu ti rendi proprio conto di smettere di essere figlio ma diventi automaticamente il genitore non solo fisico non solo di di pazienza del tempo che dai di quello che cerchi di dare ma anche proprio da un punto di vista emotivo e non è un tema facile per questo motivo qua perché in genere tutto è quel tipo di appunto maternità che posso e genitorialità da anima e nonna e anche la modalità in cui switchano scusate scusate io uso un sacco di cambia no che poi vengo cazziata per i neologismi inglesi oppure per le parolacce oppure per le parolacce no ripensa quanto in realtà durante la vita di una persona il rapporto può cambiare da un momento all'altro nel giro di niente e stava anche mi era ricapitata un'intervista di Murgia che stava spiegando cavolo ma in una coppia di due persone il momento uno dei momenti più difficili che può accadere quando uno dei due magari entra in crisi e che diventa poi la crisi di coppia e in quel momento lì con chi ne parlate quando ne parlate riuscite a sfogarvi quindi in quei momenti lì quando una delle due persone è in crisi l'altra persona innanzitutto ci si aspetta che abbia comunque quel senso di forza e di cura per poter mantenere tra virgolette in piedi il più possibile la situazione e anche l'altra persona a volte non c'è neanche in realtà la necessità di doverselo aspettare perché non tutti hanno questa cosa qua però in quei momenti diventi quasi genitore diventi quasi una forza esterna che però cerca di tenere il focus sono tutte quelle trasversalità dei rapporti umani che però si incrociano proprio nel cura nel dare ed è molto particolare grazie che mi sorridi mi imbarazzo non mi giro più per subito io sono contenta che ho parlato Poffi di questa cosa perché appunto ce l'ha un po' vissuta questa situazione quindi sì ma non non solo io no ovvio no ma dico anche se no però è tipo io no no infatti una cosa carina la stavo leggendo in questi giorni sempre per rimanere in tema stavo leggendo uno degli articoli scritti per Simonetta Shandivashi quando ha pubblicato il suo famoso articolo io non voglio avere figli come i figli che non voglio e quindi tutta una serie di scrittori e persone hanno risposto scrivendo articoli e c'era quest'uomo che ha parlato di quanto in uno specifico momento ha fatto da padre al figlio piccolo e da caregiver a suo padre e di quanto si è appunto cambiata all'improvviso la sua vita nel divenire figlio e padre nello stesso giorno e di come si sia reso conto nell'esatto momento di quando suo figlio è diventato in realtà un po' il genitore di lui quando in una giornata di nuoto ha dovuto sorreggerlo sono quelle cose che non ti rendi conto non ci pensi perché poi in realtà la normalizzazione delle famiglie non solo passa attraverso la concezione di madre padre e di uomo donna biologicamente anche nati in questa in questa maniera qua ma anche nel fatto che ognuno deve avere dei compiti precisi e deve dimostrare una forza precisa deve essere in una determinata maniera i ruoli i ruoli esatto scusa hai ragione problematici io sono pro lissareg cioè il vocabolario è treccaniale e quindi oh sì 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 vi ah c'è il microfono venga si può anche staccare abbiamo scoperto ok sarò breve perché penso che forse il tempo non è ancora non è molto no io il brano che abbiamo letto mi ha fatto venire in mente due riflessioni uno sull'importanza di tutelare le persone che fanno la gestazione per altri e quindi sicuramente tutelare questa questa situazione mi sono chiesta però rispetto a tutte quelle persone che vorrebbero usufruire di questa possibilità ma questa possibilità non ce l'hanno perché penso che sia un impegno economico importante l'altra riflessione su cui che è forse una mia tematica è quella legata al denaro e a tutte le possibilità che permette e quindi quella di una giustizia economica che porta ad una giustizia sociale quindi quella secondo me è la nostra prossima e importante battaglia questo era quello che volevo dire ci hanno avvisato che non è prestissimo eh no non è non è presto ma ma noi facciamo leggere Giorgio subito che ci leggerà il proletariato surrogato grazie grazie mille ho scelto questo si sente grazie 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 ho scelto questo questo brano perché contiene nel titolo la parola proletariato che è una parola di cui non si sente più parlare è presente solo nei libri di storia quando si affronta la rivoluzione russa che è un tale casino che gli studenti non capiscono mai però è sparita la parola proletariato è sparita quindi mi ha attirato questo capitolo mi sono poi reso conto che aveva un vantaggio che era molto breve ma subito dopo mi sono reso conto anche che ha una tale concentrazione di schwa che rende veramente difficile la lettura forse più di ogni altro comunque perché è sempre una questione di classe la nascita biologica è programmata molto meno della nascita logica che sia quella tarda o elettiva di un figlio d'anima o quella neonatale euterina di una figlia concepita attraverso una gravidanza surrogata è un venire al mondo quindi quello che chiamiamo naturale tendenzialmente anche meno protetto desiderato e strutturato la nascita biologica due terzi delle volte è un evento che uscilla tra la casualità e la irresponsabilità e grazie al cielo se così non fosse l'umanità si sarebbe estinta centinaia di anni fa perché le circostanze desiderate o desiderabili che si dovrebbero creare se davvero mettessimo al centro soltanto gli interessi di chi nasce sarebbero tante e tali che la loro improbabilità è fuori discussione figli più tutelati agli occhi dello Stato dovrebbero essere semmai quel per le qual si sono organizzate tutte le condizioni migliori affinché possa venire al mondo con la consapevolezza di essere stat preparati e immaginati profondamente addirittura molto pagati nel caso della gestazione per altri pagati non di rado con debiti in realtà perché la gestazione per altri viene costantemente associata alla condizione di ricchezza dei genitori intenzionali ma oggi che sono in intimità con alcuni di loro posso dire che spesso l'intenzione che nutrono il loro desiderio e la loro volontà sono ben più grandi delle risorse economiche che comunque investono non vorrei però si dimenticasse che anche un'adozione internazionale comune e persino le adozioni nazionali richiedono una disponibilità di cifre che nessun operaio di catena potrebbe comunque permettersi ammesso e non concesso che la generazione biologica sia comunque così meno costosa se ce lo si potesse permettere diffusamente la classe media almeno di figli biologici ne farebbe e non ci si straccerebbe le vesti con la retorica nazionalista della decrescita e di una presunta emergenza natalità il valore della prole è di peso per generazioni dal fatto che le braccia per l'agricoltura e per il lavoro in fabbrica o in miniera fossero una risorsa economica accessibile per via riproduttiva ora che i braccianti li sfruttiamo e li facciamo morire sotto il sole dei nostri campi come animali da Soma senza neanche seperrirli ora che ne commissioniamo da casa il lavoro massacrante di consegna su biciclette e motorini per compensi ricevibili e neghiamo loro non dico il salario minimo ma persino l'acqua pubblica di un cimitero succede a 20 miglia mentre scrivo queste righe abbiamo capito che non c'è bisogno di fare figli nostri per avere mano d'opera a basso costo basta rendere schiava e sottomess le figlie degli altri un proletariato surrogato popolato da coloro che abbiamo per anni disegnato come bestie parassiti passeggeri di taxi del mare preparando il terreno per l'assurda convinzione che siano venuti qui per rubarci il lavoro come se quel lavoro l'avessimo mai voluto fare grazie grazie io ho fatto una riflessione naturalmente sono abituato ad andare fuori tema infatti la riflessione l'ho fatta su tutt'altro e ve la leggo in realtà c'entra con questo ma non direttamente ecco non sono l'unica persona anzi probabilmente sono l'ultima in ordine di tempo e sicuramente di importanza ad aver rilevato che l'ultimo libro scritto da Michela Murgia scritto con la previsione della sua stessa morte ha un titolo che è evidentemente in contrasto con quella fase che stava attraversando in quel momento dare la vita suona come una promessa crudelmente per noi pronunciata in una prospettiva vicina di fine ma la riflessione sul linguaggio e sulle parole che è sempre in atto nei testi e nella testa di Michela Murgia ci spinge a un ulteriore esegesi su questo titolo così particolare e così forte perché in italiano l'espressione dare la vita riassume contiene significati differenti e due sfumature che sono l'una l'opposto dell'altra da una parte quella a cui apparentemente fa riferimento il libro dare la vita nel senso di offrire la vita generare la vita promettere la vita aprire la possibilità di un'esistenza che continua contemporaneamente però dare la vita nell'architettura retorica che forse ha una sua origine nel romanticismo significa esattamente l'opposto cioè morire dare la propria vita in nome della patria come recita il nostro brutto inno nazionale dare la vita per un ideale dare la vita per la libertà come coraggiosamente in Italia è stato fatto in tempi più eroici di questi e da questo punto di vista questo titolo diventa così atrociamente attuale e forte ora io non so magari qualcuno di voi lo sa invece io no io non so quale sarebbe stata la posizione di Michela Murgia rispetto a questa nostra contemporaneità così difficile così tremenda ma ecco che questo titolo oggi ci può aiutare a intravedere una via di salvezza l'unica via sempre è quella di dare la vita di offrire la vita e di proteggerla ed è per questo che io qui grazie a Michela Murgia e grazie a tutti voi mi unisco a una richiesta che ormai risuona da più parti fermiamo la negazione della vita fermiamo le morti fermiamo i genocidi fortissimo fortissimo allora ora leggiamo due brani di promesse il primo ce lo legge Serena e il secondo Isabella andate direttamente voi fate voi serve una mano subito pronta buonasera a tutti sono Serena una persona queer lesbica poliamorosa accolta in purpose queer al di là delle etichette perché la piazza è stato detto subito è un posto inclusivo per tutti e ci dimostra come di fatto nella pratica quotidiana sia possibile comportarci in modo inclusivo senza grande sforzo leggo il brano che ha scelto Michol per me in realtà ha avuto la sensibilità e la sicurezza di individuare il brano che avrei scelto esattamente io prometto di non lasciarti non lasciarti mai ho dell'indissolubilità delle cose nate per dissolversi di tutte le promesse che si possono fare a qualcuno questa è la più crudele arrogante e infelice prometto di non lasciarti significa di me so già tutto e posso garantirti che non cambierò mai perché la mia essenza è così statica che non immagino di evolvermi in nessuna direzione imprevista e posso promettere questa staticità allo stato la logica del binarismo specie in termini di genere è ideale per sostenere quest'idea cementizia della persona umana dove ciascuno ha un solo posto nel mondo ognuno ha una sola identità sempre quella e tutti sono rassicuranti e rassicurati illusoriamente incollati a una sola immagine di sé in tale cornice ogni cambiamento è minaccia ogni alternativa è destabilizzante ogni considerare una possibilità diversa è un tradimento del patto iniziale dentro questa presunzione di eternità dei rapporti niente deve spostarsi o non è vero amore perché il vero amore non cambia il vero amore è uno eterno eternamente identico la quantità di sofferenze che derivano da queste idee realistica del cuore delle persone è infinita è spesso vissuta nel segreto i rapporti in quest'ottica non possono finire solo fallire la queerness che è una pratica della soia fa il contrario accoglie il cambiamento come strutturale se non cambia anzi se pretende di non cambiare il rapporto si allontana da quel che ci insegnano le esperienze queer e nasconde al proprio interno sono strumenti di oppressione dell'altro il mutamento è l'unica possibilità di sopravvivenza dell'energia vitale che ognuno di noi coltiva intimamente dimmi che ami quello che di me cambia di continuo e io potrò continuare a darti quello che di me davvero non cambia la voglia la voglia di sceglierti ogni giorno in modo differente come diversa sono io ogni mattina quando apro gli occhi tra le varie gatte e doti di Michela Murgia è in dubbio che lei abbia avuto la capacità di dare un valore collettivo a quei temi che di per sé istintivamente risuonano come intimi personali per usare le sue parole tutto è politica così come la mia esperienza personale che è svelata in questo brano che ho avuto possibilità di leggere e condividere con tutti voi stasera Noemi se fai casino anche a questa lettura ti picchio fecondità o dei legami di sangue che come è noto tende a uscire dalle ferite non puoi dire che sono tuoi figli non li hai partoriti ho sincera compassione per chi insiste a ripetermi questa frase nella convinzione di ferirmi ma è una frase che mi indigna anche perché intorno a me vedo tantissimi padri madri e genitori non di sangue che invece ne restano anichilite cancellate nella loro scelta d'amore per essere ridotte alla funzione biologica che spesso hanno subito con dolore e hanno girato con enormi sacrifici economici fisici e rischio sociale trovo scandaloso che nel 2023 la nostra specie che nella sua arroganza pretende di essere la più evoluta del pianeta continui a considerare la propria riproduzione come un fatto di sangue del sangue la cosa più fascista che esista che nega la volontà la scelta d'elezione la specialità meravigliosa di amare in modo libero senza dipendere da nessun destino genetico genetico il primo marcatore della queerness è la generazione di volontà la capacità non di riprodursi banalmente animalesco industriale capitalista consumistico ma quella di moltiplicarsi un verbo che relega il sangue a una delle possibilità di essere e restare umani ma non l'unica e forse alla fine neanche la migliore possibile ogni volta che si lascia alla legge corrente la possibilità di decidere chi è figlio e chi non lo è chi è genitore e chi non lo è si sta dando ai governi la possibilità di discriminare le persone in base ai corpi e alle loro funzioni definendo cosa è normale e cosa è marginale cosa può essere legittimato e cosa si può perseguitare rimendicare la generazione di volontà non è solo una possibilità per le famiglie che non ne hanno altra ma è una battaglia per la libertà di chiunque per chi vuole controllare i colpi di qualcuno e alla fine cercherà di controllare tutto io non sono stata così dirigente come le altre e gli altri non ho scritto un intervento cercando di affidarmi un po' alla mia esperienza e sarò breve lo giuro proprio perché tanto non ho scritto nulla io sono un'assistente sociale quindi vedo le cose da tanti punti di vista di genitori ne ho visti tanti di famiglie noviste tante anche di non genitori questa retorica del sangue spesso incastra perché un genitore di sangue è il miglior genitore che possa esistere io mi chiedo è il miglior genitore che possa esistere vi lascio con questa domanda adesso leggerà Elisa il titolo del capitolo è altre madri mentre il titoletto è cosa avrei raccontato a mia figlia quando ero un'altra è bello questo però sì tagliare taglierò e quindi non so cosa verrà fuori quanti minuti ho? un minuto io leggo e leggo vai vai allora certo se vuoi ti stoppiamo a quello stadio se ancora figlio deve essere non può più essere maschio sarà femmina e non avrà occhi facili vorrà sapere seduta sulle mie ginocchia mi chiederà chi è e chi siamo e le mie risposte non uccideranno le sue domande mia figlia diventerà ricordo prima di essere progetto e accoglierà il presente come fosse un seme ricevuto non si addormenterà con i cartoni animati no io le canterò una ninna nanna per stare sveglia una ninna nanna per non chiudere gli occhi perché abbiamo già dormito tanto e troppo mentre altri plasmavano i nostri sogni in incubi di realtà adesso qua è dura allora ma poi come glielo dirò che noi eravamo anche quelle coi piatti in ceramica stampati con le facce dei reali di Savoia in fila sulla mensura del camino sta parlando della terra sarda noi con le figlie e le strade chiamate Mafalda Margherita Maria Iosè eravamo noi quei dolori silenziosi alla fine dell'altopiano noi che al suolo della banda musicale fingevamo che i monumenti alle nostre amputazioni fossero fondamenta di una nuova appartenenza eravamo noi le figlie femmine che ereditavano le spiagge terreni senza valore né pascolo né campo sterile la frontiera con il niente e per niente le demo via immemori che il confine è una ferita e le ferite si curano non si vendono in quel mondo ogni cosa era puttana starà zitta mia figlia e forse non mi crederà che anche quelle eravamo noi ma io glielo dirò lo stesso perché per una madre ogni silenzio di verità è un aborto ogni sacrificio di memoria è una rosolia dell'anima che genera figli deformi dentro incapaci di ricordo a basso quotiente di libertà e un giorno forse quando ogni cordone ombelicare sarà creduto reciso lei sempre sua figlia ritornerà a me sul filo di una storia e nella memoria di quel racconto capirà che nella vita non si nasce solo una volta quel giorno diremo a voce alta il nostro nome per intero e raccontare non sarà mai più un gioco da bambini hai venuto fuori me l'avevi spento ora Poffi ci fa l'ultima lettura e ci salutiamo sì Poffi è speciale il suo foglio è a parte Poffi è speciale il suo foglio è a parte una speciale esatto oltretutto io prima dirò il mio e poi leggerò quello che ho da leggere perché sono come i salmoni probabilmente in una vecchia vita ero come un salmone che fa sempre il contrario di tutti non era voluto cercato la direzione ringrazia perché se no avrei potuto parlare per ore e ore se avessi detto qualcosa dopo leggerò un piccolo estratto di murgia e in realtà leggerò anche un altro estratto che viene da un incontro di studi dedicato a Morgia a Michela Morgia e a Virginia Woolf che secondo me è molto bello che è stato organizzato dall'Università della Calabria con Purple Square eh sì non cose a caso rimaniamo in tema almeno un pochino no Serena no 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 e dai e dai esatto allora molto di quello che abbiamo letto l'ho sentito mio molte altre cose no e delle cose in cui mi sono riconosciute è stato come se avessi indossato la misura perfetta del mio guanto quello che sto per andarvi a leggere invece l'ho sentito decisamente più primordiale come un mantra antico ma di quelli che ogni tanto suonano lontani come se facessero parte di noi da aerei ma a volte non riusciamo ancora a capire viviamo in un mondo che è confuso che è pieno di rabbia la cui stasis ci abbraccia in un'immobilità di sonolenza e sicurezza questa sorta di normatività ma il cambiamento è la cosa di cui ci è stato insegnato purtroppo ad avere terrore qualcosa che ci avrebbe fatto perdere ogni cosa il mutare invece individuale e sociale è la cosa che ci dobbiamo di più in assoluto dobbiamo vederlo sentirlo riconoscerlo perché in fondo l'essere umano è questo ed è per tale motivo che il cambiamento ci evolve crea non distrugge a differenza appunto di come ci viene insegnato ora vediamo ogni cosa che ci è stata tolta ed ogni accettazione imposta e sta finalmente cessando il momento di vivere in negazione di vivere come degli outcaster finalmente sta arrivando il momento di riprenderci tutto quello che ci è stato un po' tolto che ci è stato un po' negato precederò con michela murgia quando qualcosa non vi torna datemi torto dibattetene coltivate nel dubbio per sognare orizzonti anche più ambiziosi di quelli che riesco a immaginare io la mia anima non ha mai desiderato generare né gente né libri mansueti compiacenti accondiscendenti dunque fate casino mentre invece da burgia siamo semi disseminati dentro e fuori di noi a pretendere di bucare il terreno e spuntare come limpide preghiere arrabbiate pronte a compiersi in rinascite rinunciabili di cui essere tutte colpevoli il mondo deve sapere che non saremo mai zitte aggiungo che saremo ancora più incazzati in questo futuro interiore in cui piccole gocce si organizzano per fare tempesta e non esiste morte non esiste morte se chi ci precede resta nelle nostre battaglie e auguro una buona serata a tutti no 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 vietato volevo ringraziare tutti per essere stati anche fino a quest'ora perché abbiamo capito anche senza orologica è tardissimo ringraziamo assolutamente il circolo dei lettori perché veramente sono pazzeschi noi ve lo diciamo sono adorabili veramente e ringraziamo la libreria Bodoni che ci ospita per il nostro gruppo di lettura torinese tra l'altro dopo domani quindi sabato ci sarà l'incontro per sempre suddare la vita più di confronto tra di noi più che di letture come oggi e quindi per chi vuole poi ci vediamo là e alle tre del pomeriggio io ringrazio Giulia Cerano grazie mille per essere stata con noi grazie a voi grazie a voi per l'invito grazie a voi per essere venuti e venute qua e sono molto contenta perché poi chiudo è vero che abitiamo un mondo che ci mostra un genocidio tutti i giorni pace e libertà per la Palestina sempre sempre però devo dire anche che abitiamo un mondo che anche questa cosa qua ci siamo trovati qua questa sera per chiacchierare leggere e discutere di qualcosa in questo modo qua cioè alzare le mani e dire io la penso così ed essere serene e sereni nel farlo ed è bello grazie buona serata persone grazie 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 a tutti